rimessa in gioco lunghissima per Iguain, la posizione è regolare, chiaramente Iguain verso la porta, Iguain e il gol! Gravissima ingenuità del Cagliari, di Cragno che ribatte e poi entra il tiro e il gol! Il gol di Hiller, 2-0 per il Napoli, tiro da fuori di Hiller nell'angolo basso e gol del raddoppio. Balsano, Ibarbo, Ibarbo, gol! Vittorio! Ibarbo, riapre la partita! L'arbitro fissi a parte, Cossu, il cross all'interno, verso Cepitelli, Rossettini, gol! Fariaz, Diego Fariaz pareggia, 1 minuto e 55. Gol di De Guzman, Napoli nuovamente in vantaggio, 16 minuti nel secolo tempo, il cross a destra di maggio, dalle spalle è arrivato De Guzman che ha depositato di testa in gol. Tiro al 1. Gol! Gol! Chiedo! Fariaz, ancora lui, palla rubata di Ibarbo nel settore destro e pallone a raso terra messo verso il secondo palo, dove è arrivato Storias per il 3 a 3!